domotec valle reggio calabria si presenta la splendida location dell'alta fiumara direttore di meo ci spiega perché avete deciso di affiancare la squadra in serie a3 e soprattutto anche il territorio portare a reggio calabria in una categoria che ha di nuovo la a nel nome nello sport ma è chiaro stiamo parlando comunque di una di un'importanza sportiva che effettivamente rappresenta la calabria quindi rappresenta la parte bella e sportiva della calabria e quale scelta migliore quella del resort alta fiumara che comunque una delle location più esclusive del nostro territorio l'obiettivo nasce anche dalla possibilità o meglio dall'opportunità di poter anche ospitare le squadre in modo da far scoprire alle stesse la nostra magnifica città la nostra magnifica le nostre magnifiche spiagge i nostri magnifici spazi ma soprattutto la nostra magnifica cucina quindi tutta la parte gastronomica che non soltanto alta fiumara offre ma che comunque la nostra regione offre quindi è un'opportunità sia per noi e sia anche per gli altri che scoprono questo territorio diventa quindi un importante volano anche per promuovere il turismo perché lo sport diciamo ce lo può anche avere questa funzione non è solo risultato partito diventa anche trasmettere fuori da reggio calabria la bella immagine di reggio calabria beh chiaro lo sport è sempre stato volano di movimenti turistici di flussi turistici non a casa esiste un turismo che si chiama turismo sportivo quindi noi vogliamo far parte di questa iniziativa di questo volano e vogliamo essere su insieme a tutto il territorio a tutti quelli che vi partecipano